Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione di approfondimento del nostro VG21. Come sapete ogni sera dedichiamo questo spazio a diversi temi e a diverse storie e oggi vogliamo raccontarvi la storia di una grande donna, moglie, madre, attrice, scrittrice, presentatrice televisiva, insomma possiamo dire davvero un'artista poliedrica. Sto parlando di Beatrice Fazzi. Buonasera Beatrice, grazie per essere con noi. Grazie, buonasera, che bella presentazione, mamma mia. Tutto meritato. Allora, tutti noi ricordiamo Beatrice nel suo fantastico ruolo della domestica Melina in Un medico in famiglia, ma oltre a questo c'è tanto altro, i diversi personaggi che ha interpretato sia in cinema che in televisione, per non parlare della meravigliosa carriera teatrale, che l'ha vista e la vede tuttora protagonista di diverse commedie. Proprio in questa stagione abbiamo potuto ammirarla in tempo al tempo e stremate ultimo atto, due commedie tra l'altro tutte al femminile. Ma oltre a questa sua immensa bravura e spontaneità nel far ridere, Beatrice ha anche una grande interprete di personaggi drammatici. Dunque il talento e la bravura di una donna che è capace di emozionare il pubblico con momenti di allegria ma anche di riflessione. E a proposito di teatro e di spettacoli, Beatrice Fazzi, mercoledì 30 marzo insieme a Ilaria Nesto Vito e Francesco Stella debutta al Teatro 7 con un nuovo spettacolo, Il nome della madre, tratto dall'omonimo libro di Henry De Luca e diretto da Michele Laginestra. Allora Beatrice, di che cosa parla questo spettacolo? Un adattamento teatrale firmato da Michele Laginestra attraverso il quale vogliamo far arrivare alle persone con semplicità la storia più bella, la storia più conosciuta, quella della nascita di Gesù, dell'adolescenza di Maria. E quindi fotografiamo Maria quando conosce Giuseppe, quando scopre di essere rimasta incinta per volere di Dio, tutto ciò che questo ha comportato, la difficoltà che hanno incontrato, che ha incontrato questa giovane coppia, l'amore che c'è tra di loro. È molto poetico, un testo molto bello di Henry De Luca e Michele ha desiderato metterlo in scena con una Maria narrante, che sono io, e una giovane Maria che è l'aria nestovito accompagnata da Francesco Stella che è Giuseppe, che agiscono in qualche modo le scene della loro vita quotidiana, anche con il viaggio da Nazareth a Bethlehem fino alla nascita di Gesù. È molto bello perché nell'idea del regista Michele Laginestra c'è il desiderio di riportare questa storia, di avvicinarla alle persone comuni che magari sono credenti, ma anche non credenti, perché possano immedesimarsi, capire che siamo tutti destinatari di messaggi nella nostra vita, tutti destinatari di una vocazione, una chiamata e il modo di rispondere fa la differenza. Questo sì, pronunciato da Maria ma anche da Giuseppe, può esserci d'esempio anche nella nostra vita di tutti i giorni. Ci sono delle differenze rispetto al testo di Henry De Luca? Sì, perché il testo di De Luca è più una narrazione, un monologo lungo, invece qui avremo modo di vedere proprio questa fanciulla con il suo sposo, il dialogo tra di loro, l'azione proprio sarà più semplice per chi assiste allo spettacolo, immedesimarsi e seguire anche, immaginare l'epoca, tutto quello che accadde. Questo spettacolo penso che ti abbia permesso di conoscere più intimamente questa importante figura, la figura di Maria. Cosa in particolare hai visto con luce diversa rispetto a prima? La figura di Maria mi ha sempre molto affascinato e anche un po' intimorita perché l'ho sempre vista come un modello irraggiungibile, una donna appunto piena di grazia, come io non sono sicuramente. Comunque, vedere questa fanciulla che nella semplicità racconta che l'accettazione della proposta del messaggero è venuta spontanea, di getto, come se fosse la cosa più naturale del mondo, cioè capire che davvero a volte dietro a un sì c'è come un istinto, un fidarsi. Ecco, la fiducia in questo padre mi colpisce e mi sollecita a viverla in prima persona, a fidarsi a questa volontà divina che è sicuramente la volontà che vuole la tua felicità, la realizzazione piena della tua bellezza. Tu sarai la voce narrante, ma secondo te c'è qualcosa di beatrice in questa Maria? Allora, la Maria narrante che io interpreto è una donna dei nostri giorni. In realtà il regista ha voluto creare questo parallelismo tra l'epoca in cui i fatti sono avvenuti, quindi più di duemila anni fa, e i giorni nostri, perché le difficoltà che hanno incontrato Maria Giuseppe sono quelle che possono incontrare oggi, per esempio, le persone che dall'Ucraina devono scappare per la guerra, i tanti profughi che incontriamo, i tanti ultimi della nostra società. Quindi Maria, che io interpreto, è una donna che è in cammino, non sappiamo se è in fuga, comunque vive per strada, vive una vita un po' un quotidiano con pochi mezzi. E che cosa c'è? C'è la precarietà. Io mi sento molto precaria, nonostante abbia molte sicurezze nella mia vita, anche il lavoro che faccio è un lavoro precario, diciamocelo, e tutto può cambiare, e molto è cambiato nella mia vita per via del Covid. Quindi quello che cerco di trasferire in questo personaggio e di vivere è questa precarietà, nella quale però c'è una serenità, un affidamento. Sono pronta a vedere anche cosa succede, a vivere nel qui e ora la mia vita. Che bello, che bello Beatrice. Ma qual è il messaggio che vuole lanciare proprio al pubblico questo spettacolo? Sì, proprio questo, rimanere in ascolto, non chiudersi, non focalizzarsi, non concentrarsi anche troppo su quella che è la visione di come dovrebbe essere la nostra vita, anche la ricerca del perfezionismo. Siamo imperfetti e viviamo la nostra quotidianità nella semplicità e nell'ascolto, perché sì, c'è un ponte che ci lega al cielo e magari dal cielo, attraverso messaggeri particolari, non per forza alati, possono arrivare dei messaggi importanti, delle benedizioni. Io non mancherò, ma invito anche tutti i telespettatori di Canale 21 a non perdere questo spettacolo. Ecco, chiedo alla regia di mostrare in grafica la locandina in nome della madre dal 30 marzo al 10 aprile al Teatro 7 di Roma con la partecipazione della meravigliosa Beatrice Fazzi. Allora, ora voltiamo pagina. Dovete sapere che Beatrice, prima di sfoderare questo meraviglioso sorriso, un sorriso che vi assicuro dal vivo emana una luce immensa, ha vissuto un periodo davvero buio, difficile, pieno anche di sofferenza, ma poi c'è stato l'incontro con Gesù e la conversione religiosa che l'ha salvata e l'ha fatta rinascere. Questo è quanto racconti nel tuo libro, ecco, lo facciamo vedere a tutti i telespettatori, un cuore nuovo. Ci vuoi raccontare la tua testimonianza di fede, di questa nuova vita? Sì, diciamo che molti dicono, ah, perché adesso tu hai un cuore nuovo. No, io ho semplicemente dato questo titolo al libro perché è la chiave forse di quello che ho capito per essere cristiani. Il cristianesimo non è un moralismo, è un incontro, un incontro dal quale scaturisce un desiderio grande di cambiamento, di conversione appunto. E la conversione, il cambiamento sta proprio nel riconoscersi deficitari di qualcosa, appunto, chiedere che questo cuore che abbiamo di pietra possa cambiare ed essere trasformato in un cuore di carne, proprio perché c'è un riferimento al passo di Ezechiele, della scrittura, che dice vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Cioè Dio è capace, nulla è impossibile, Dio è capace di farci osservare i suoi comandamenti, che non sono una legge che vuole obbligarci ad obbedire, ma sono proprio delle istruzioni per l'uso di una vita felice, una vita piena. Noi vogliamo tutti essere felici. Ecco, io non ero felice, infatti il sottotitolo del libro è Dal male di vivere alla gioia della fede. E tuttora cado spesso in periodi di grande difficoltà, perché la vita presenta sempre i problemi a tutti. Però mi viene un grande sostegno dalla fede, c'è stato un grande cambiamento, un affidarsi, come dicevo anche prima, a questo padre, non sentirsi più orfani e capire che tutto si supera e tutto quello che arriva è grazia, fa parte di un cammino necessario perché noi possiamo evolverci e diventare la migliore versione di noi, ecco, come dire. E io sono in cammino, sono in cammino e in questo libro ho raccontato, ecco, io oggi sono mamma quattro volte, ho quattro figli, tutti con lo stesso marito, che quindi è anche, come dire, un record nel mio ambiente. Però sono, ho iniziato abortendo a vent'anni, volontariamente, la prima volta che sono rimasta incinta. Nel libro si capisce chiaramente che la radice di questo grandissimo errore è stata la paura, che poi è la radice di tutti i nostri sbagli, fondamentalmente, e ci è voluto un percorso che ancora continua di guarigione attraverso la confidenza presa con Dio, con la sua parola, con questo verbo che si incarna nella mia vita tutti i giorni, per superare quel trauma tremendo e terribile. La prefazione del libro è di Franco Nembrini, è un altro caro amico che in questi giorni proprio sta facendo una cosa bellissima nella Basilica di San Giovanni, ed è un libro avvincente, dicono che si legge in una notte. L'ho scritto sei anni fa, è iniziato con questa tremenda ferita dell'aborto e finisce il libro con il vagito della mia ultima figlia, Maddalena, che annuncia questa risurrezione, infatti. È tutto, è molto bello, è una storia d'amore bellissima, fortissima, e ancora vado in giro a presentarlo. È diventato quasi un monologo itinerante, una testimonianza. Cosa ti auguri possa suscitare questo libro nel lettore? Guarda, la cosa bellissima è che ancora ricevo sui social, in privato, molte lettere, molti messaggi di donne che hanno purtroppo avuto questa mia esperienza e che non erano riuscite a perdonarsi. La cosa fondamentale che questo libro suscita è questo desiderio di perdonare se stesse. È possibile perdonarsi, accogliere il perdono alla misericordia di Dio. È un libro che parla della misericordia di Dio, perché di fatto a me, se non ancora un cuore nuovo, perché quello è difficile da poter avere, è stata donata una vita nuova. Mi ero condannata, perché poi le conseguenze dell'aborto sono psicologiche, sono nel dissidio con il proprio corpo, nella difficoltà della relazione, tante cose di cui non ti parlano quando vai a fare un colloquio nei consultori. C'è anche un po' una denuncia di come viene applicata la legge 194. Insomma, ecco, quello che questo libro suscita è intanto non credere alla menzogna che quello è un grumo di cellule, perché non è così e le conseguenze sono sulla mamma devastanti. Però c'è una possibilità di venirne fuori, c'è la possibilità di essere perdonate e di ricominciare. Tu hai avuto una grande forza, un grande coraggio e questo tuo atto di affidamento veramente è la cosa più bella che potessi fare. Quindi invito tutti i nostri telespettatori a leggere Un cuore nuovo di Beatrice Fazzi e da domani andarla a vedere al Teatro Sette di Roma con In nome della madre, dal 30 marzo al 10 aprile. Io ti ringrazio Beatrice per essere stata qui con noi, grazie per la tua testimonianza di fede e anche per evangelizzare anche attraverso l'arte. Grazie per questo precioso intervento, davvero. Questa edizione speciale del VG21 termina qui, noi vi ringraziamo per essere restati in nostro ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento di serata naturalmente su Canale 21.